E caccia al riscatto in casa Sandro Abate, la formazione irpina dopo il pareggio per 2-2 contro la Cormar Polistena e attesa dall'esame in pala del Mauro contro la Eniene. Nella settimana di lavoro il neotecnico Fausto Scarpetti ha lavorato in profondità per imprimere la giusta impronta sul gruppo Verdi Azzurro. L'aspetto più importante su cui ha lavorato il tecnico Molisano è certamente l'utilizzo del portiere di movimento, carta che fin qui non è stata sempre decisiva per la Sandro Abate. Per il mezzo contro la Eniene Scarpetti potrà contare sul gruppo al gran completo e rientrato dall'impegno con la nazionale Under-19 anche Gabriel Pasetti, elemento che rappresenta un valore aggiunto per la compagine irpina. Formazione attualmente settima in classifica che deve recuperare il gap con le formazioni alto, tra cui la schiaccia sassi Padova che prima della sede in Calabria ha vinto con un risultato rotondo al Del Mauro. Un dato che deve far riflettere sono le 20 reti al passivo subiti da Perez, solo 25 quelle del Catania. Nel mezzo di Del Mauro, in programma domani sera alle ore 20.30, non saranno concessi passi falsi. Servirà portare a casa punti prezzesi per restare in scia con il secondo posto in classifica.